Stiamo parlando del report sullo stato dell'unione dell'energia. Purtroppo vediamo troppo poca concretezza, siamo tutti d'accordo nel perseguire la finalità di arrivare ad un mix con più rinnovabili, però le rinnovabili non sono programmabili e chi fa impresa ha bisogno di programmazione. Per cui quello che abbiamo chiesto in aula è maggiore concretezza e soprattutto riuscire a considerare il gas come una tecnologia di transizione. Senza un approccio concreto non si riesce ad andare da nessuna parte e intanto i prezzi dell'energia aumentano.